Musica Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata Computer Museo In questa puntata voglio parlarvi di come diventare partnership di Youtube in pochi minuti Quello che servirà è solo un canale di Youtube, oltre a quello non serve nient'altro Allora innanzitutto vi consiglio una cosa, se volete attivare per ricevere la monetizzazione Vi consiglio di attivarla sui 200 iscritti anche perchè diciamo che se avete pochi iscritti e poche visualizzazioni Non è che vi danno tanto a fine mese, vi daranno quei 10 centesimi Però la soglia di pagamento è sui 70 quindi ci vorrà molto Vabbè comunque andiamo a vedere la guida completa fatta al computer Bene come vedete questo canale di prova che è per la realtà quello della Computer Museo Arcade Che è Gamebot Arcade, vabbè per chiunque vuole andarlo a visitare comunque è Computer Museo Arcade In alto vedete il link Come vedete ha 6 iscritti e 27 visualizzazioni quindi ben poche E questo canale non è che lo uso molto infatti ci sono dei video ogni morte di Papa Quindi andiamo a fare proprio la partnership per questo canale anche se servirà poco Allora innanzitutto ci dobbiamo spostare in impostazioni di Youtube Una volta che siamo dentro, scusate per la lentezza un po' della connessione ma fa un po' schifo non so come mai Una volta che siamo qui dentro andiamo in vedi le altre funzioni E quindi attendiamo il caricamento Una volta caricato tutto questo andiamo in avanzate E attendiamo anche lì il caricamento Qui ci sarà il paese, selezioniamo Stati Uniti Quindi in questo caso andiamo qua Stati Uniti, consenti così e facciamo salva Magicamente come avete visto durante le funzioni di Youtube Io non avevo la partnership abilitata Infatti se facciamo adesso funzioni Guardate un po' voi cosa succede Monetizzazione attiva Se noi attiveremo la monetizzazione Saremo una volta attivata la monetizzazione Abilitiamo il nostro account e facciamo abilita Una volta che saremo pronti Riceveremo in caso che avete abilitato l'email Un'email di conferma con scritto che il vostro canale è finalmente funzionante Per la monetizzazione di Youtube Ovviamente qua dobbiamo attendere che venga caricato la nostra pagina web Quindi in questo caso facciamo abilita di nuovo Vediamo se magari ce la carica adesso Ok Qua vabbè ci sono tutte le varie leggi E tutta la community e roba del genere Quindi io l'avevo già letta Quindi è inutile anche che la rileggo Facciamo letto i termini precedenti E li accetto Accetto di non fare clic sugli annunci google che pubblicherò Cioè nel senso che in caso che voi clicchiate sui vostri annunci Per pigliare i soldi Ovviamente Youtube se vi becca vi blocca sia i canali sia la monetizzazione Non attiverò contenuti per la monetizzazione per cui non possiede diritti sufficienti Questo si intende in caso che Esempio Mettete musica con copyright e roba del genere Quella non bisogna attivare la monetizzazione Perché se vi sgamano come ho detto bloccheranno monetizzazione Se hai meno di 18 anni e vuoi procedere con la monetizzazione d'account Dichiara che un tuo genitore, un tuo tutore legale ha letto le informazioni qui sopra E ha dato il suo consenso per accettare i termini facendo clic su accetto Quindi una volta premuto accetto Magicamente il nostro account Come vedete qui io vi consiglio di attivare tutti e tre in modo che ci sia più monetizzazione possibile Una volta che saremo attivati Come vedete le impostazioni di monetizzazione sono state aggiornate per gli 8 video che c'hai sopra il canale Quindi in caso che andate su gestione video Quindi in questo caso così come vedete I nostri video Cioè tutti i nostri video Sono stati tutti monetizzati E quindi saremo pronti per la monetizzazione Nel prossimo video parlerò di come invece preparare Google AdSense per ricevere i soldi Grazie a tutti per aver visualizzato questo video E ci vediamo alla prossima puntata della Computer Museo Ciao Ciao